Benvenuti alla Carnival Cup, seconda edizione, edizione 2017. Siamo partiti finalmente, oggi sabato 25 febbraio, con le partite, le quattro palestre di Borgo Manero, ad Arona le medie, qui al palazzetto e al liceo, per ben 50 squadre più di 120 partite. Un 48 ore, una 48 ore piena di entusiasmo, c'è tanta energia qui al palazzetto con i ragazzi, piccolo antipasto ieri sera con le squadre di Arona che hanno cominciato le medie il venerdì sera e siamo pronti per partire, anzi siamo già partiti, tutto sta funzionando per il meglio. Vi aspettiamo tutti quanti sabato sera, questa sera al Palamico per lo spettacolo dei Damouv e per la premiazione di tutti i ragazzi. Un saluto agli amici di Arona24. Grazie a tutti.